Goditi la tua passeggiata in sella ad uno scooter elettrico. Da noi puoi noleggiarlo o acquistarlo, tra tanti modelli diversi. Ci trovi alla Galleria Mediterraneo in via San Leonardo 52, a Salerno. Continua il netto calo dei positivi al nuovo coronavirus a Cava dei Tirreni. Secondo l'ultimo aggiornamento diramato dal Dipartimento di Prevenzione, Unità Epidemiologica e dall'Unità di Crisi della Regione Campania, i soggetti attualmente positivi al covid a Cava risultano 348 e i nuovi guariti nell'ultimo periodo sono 244. Sono tre i cittadini cavesi ospedalizzati, sono però aumentati a 75 i deceduti con covid. La percentuale dei nuovi positivi dal 16 al 22 maggio si è attestata al 16,57% a Cava, mentre in Campania è al 14,42%. Sentiamo a questo proposito il commento del sindaco di Cava dei Tirreni, Vincenzo Servalli. Registriamo ancora un ulteriore decremento della curva del contagio e questo ovviamente è un dato positivo che ci lascia ben sperare per un'estate più libera, più serena da questo punto di vista. Fermo restando che il covid c'è ancora, la partita non è definitivamente chiusa, molti tecnici, medici lanciano dei segnali di preoccupazione per il prossimo autunno e questo lo dico non per generare preoccupazione, ma semplicemente per dire che un minimo di attenzione va ancora prestata, soprattutto nei luoghi particolarmente affollati, nei quali special chuse è preferibile comunque mantenere la mascherina.